benvenuto questo è un video for friends cioè ci sono alcuni amici che mi hanno scritto e mi hanno chiesto alcune risposte su due questioni in particolare i 192 kHz che non ho provato su questa scheda audio e alcuni chiarimenti sul 32 bit che evidentemente non sono stati chiari nel primo video che ho fatto allora quella che vedi qui è la zoom ua c232 che hai già visto anche in un altro video poi vedrai in giro per il web quelli che vedi qui sono due cavi l'uscita casse che io ho fatto uscire che ho collegato dall'altra parte alla mia ua di apollo x8 non ti piace l'apollo cazzo me ne frega comprati un rme io ho questa e mi piace anche molto quindi allora su questa apollo io entro ma 24 bit perché l'apollo registra 24 bit che schifo questa è l'unica la zoom è l'unica al momento che ha 32 bit a due processori a 24 bit gli adc analogic digital converter messi assieme e grazie al suo driver interno li fa lavorare a 32 bit in virgola mobile cioè quindi c'è un processore dentro che fa qualcosa non usa driver non li usa no non li usa quindi per rispondere a quelli che hanno problemi a lavorare a 192 kHz con la moto gli dico beh questa non ha bisogno di driver lavora così per i fatti suoi ma credo anche linux se non sbaglio hanno già tutto quanto non c'è bisogno di installare nessun driver deve installare solo una piccola applicazione che è quella che vedi qui sotto questa piccola applicazione che adesso naturalmente da me è nascosta perché tu non la vedi che io ce l'ho nascosta questo eccola qua questa questa piccola applicazione che è quella che ti consente di gestire le funzioni principali direttamente da schermo applicazione che c'è anche per il pad per esempio sul pad però non va a 32 bit il driver che non si deve installare ma che è già presente nel core del sistema driver dell'ipad però solo 24 bit qui lavora anche a 32 bit attenzione anche nel video faccio vedere come si fa ad attivarlo devi entrare nelle funese digli che questa scheda audio deve lavorare a 32 bit in virgola mobile altrimenti col cavolo che ci lavori quindi a dove partiamo dal 32 bit allora io partirei dal 192 kg siccome ho qui davanti reaper io qui su reaper sto lavorando fai vedere project settings e qui si capisce meglio 192.000 hertz a non avere problemi di esagerazione è vero dei livelli quindi se io vado in palla proprio come ho sempre fatto adesso tu non lo sentirai in palla dalla tua parte nel senso che non va in distorsione in uscita non so per quale ragione però io sto già entrando distorto comunque va bene così ok io qui ho il mio audio e io sto lavorando a 192 su reaper e funziona ma non fa neanche uno scatto certo il fatto è che io sto usando solo un file audio a 192 probabilmente se facessi una sessione molto complessa con un sacco di file audio a 192 kilowatt il computer farebbe più fatica ora dipende dalla velocità dei tuoi dischi dalla tua ram ma se la tua scheda audio precedente la moto aveva dei problemi probabilmente era un problema dei driver della moto e della velocità dei dischi su cui stai lavorando o addirittura tutti e due parlando di moto è molto probabile che fossero tutti e due i problemi perché la moto non è che brilli in driver negli ultimi tempi la mia l'ho venduta per la disperazione per dirti ok e questo quindi quindi questa qui non fa clic non fa nessun rumore guarda quello che vedi qui è un è un piccolo scan dove si vede qui sotto c'è attivo reaper lo usa 16 per cento questo è uno scatto che gli ho fatto mentre registravo ero in play ecco è sempre lì 16 per cento più o meno questo è il livello quindi i click e i pop di solito sono dati dalla velocità di accesso al disco se è scarsa fatica a prendere i dati e non riesce a gestirlo bene quindi devi alzare il buffer e tutte queste cose qui non lo so probabilmente ripeto se fosse un progetto molto più grosso ma sarebbe il computer non tanto la scheda audio in questo caso credo e dopo questa certezza parliamo del 32 bit e qui bisogna fare una distinzione perché mi sembra che non sia stata capita dai dal dal mio pubblico la differenza tra campionamento in frequenza e bit il campionamento di frequenza 44 100 48 kHz e tutte le altre frequenze a salire fino a 100 92 96 192 eccetera servono a definire la dar la definizione del file audio in termini di frequenza ok adesso ti faccio vedere quattro file che passano uno dietro l'altro c'è anche un analizzatore di spettro che ti fa vedere la risposta in frequenza l'ho anche scritta perché magari non si vede che anche bene sul sullo schermo comunque funziona in questo modo tu sei a 40 400 e avrai fino a circa 22 kHz di frequenza disponibile poi c'è un anti alias aliasing che fa in modo che tutte le frequenze che vanno oltre i 20 kHz non vengano infilate dentro al file altrimenti creano alias cioè dei fantasmini che stanno lì dentro e che rompono le scatole al suono quindi anche se vai a 192 kHz dove avresti 96.000 Hz disponibili come suono su quella frequenza di campionamento disponibili come suono 96.000 Hz viene comunque filtrato a 20 kHz basta cioè non è che entra roba in più perché altrimenti fa rumore quindi vedrai questi quattro file passare e a un certo punto ti accorgi che cambia il tipo di suono perché quella frequenza in modo particolare non è in grado di riprodurre quel suono file Grazie a tutti. Grazie a tutti. 32 bit sono 1500 erotti momenti di archiviazione del volume. È una definizione del volume perché il suono si presenta con una frequenza e un volume. Quindi sono due dimensioni almeno. Quella è la seconda dimensione del suono che può essere archiviata fino a un certo livello. A 32 bit in virgola mobile puoi metterci dentro una Formula 1, registrarla con il microfono lì vicino al culo della Formula 1, quando fa così, o a un gatto che fa anche quello, ne fa di rumore, e non va in distorsione. Hai capito? Quindi eviti la distorsione. I bit ti evitano la distorsione. Ma il bit funziona sempre così? Cioè nel senso che tu lo metti a 32 bit e il file non va in distorsione? Tutto fatto. Facile. Il mio software lo faccio andare a 32 bit e non distorco più. È un file mono, 192, 192 kHz, 8 bit. Ora, cosa succede se io registro dentro questo file? Lo salvo. Ok, ce l'abbiamo. Questo è l'8 bit. Lo senti qui? Il rumore di fondo elettronico dell'8 bit, dato che siamo molto vicini al fondo, l'8 bit è molto stretto come quantità di volume che puoi inserire, ti porta dentro questo. Questo qui c'è. Nei file a basso bit è più vicino il rumore. Quindi, avendo 1500 erotti dB di spazio prima di andare in distorsione, tu stai nel mezzo, lontano dal fondo, lontano dal cielo. Chiaramente a 24 bit c'è meno spazio, ma ce n'è comunque veramente tanto. Se vedi il video ti ho fatto tutte le proporzioni più o meno indicate. Vabbè, è una cosa fatta a mano in cash run, è vero. È artigianale, però quello è. Quindi, quelli sono i bit. La capacità di inserire tutta questa variazione di volumi. Cioè, sono molti di più. C'è più dettaglio in volume, non in qualità in frequenza del suono. E poi, che altro dirti? Ah, sì, siccome stanno sempre lì a dire, però ho messo il file a 32 bit, ma tu stai entrando con una scheda a 24 bit. Quindi, che ti frega. Sì, però i software dopo lavorano meglio. No, si arrangiano da soli. Le Do fanno tutto da sole. Cioè, tu li metti dentro un 16 bit, fai partire i plug-in, quelli se lo elaborano da soli a 64 bit addirittura. Cioè, voglio dire, non c'è questa cosa. Poi, non tutti i plug-in lavorano realmente a 32 bit in virgola mobile. Quindi, bisogna vedere che cosa stai usando. Stai facendo voice over o stai facendo musica? Se fai musica, c'è tutta un'altra storia. Io qui parlo per chi fa voice over. E chi fa voice over registra a 24 bit. A 32 bit ci puoi registrare. Sì, eviti di andare in distorsione. Ma devi avere sia la scheda, è l'unica in circolazione, a settembre 2023. È questa, della Zoom. altrimenti se hai una scheda a 24 bit e ti tieni file a 32 bit è solo dei file più grandi. Proprio che... Non è che... Cioè, no, adesso non sbagli più la registrazione perché ho messo a 32 bit il software. Chi se ne frega se hai messo a 32 bit il software, la scheda è a 24 bit e allora il collo di bottiglia è lì, ok? Quindi devi avere una e l'altra per lavorare realmente a 32 bit in virgola mobile. Mi sono proprio completamente scordato di dirti una cosa. Non è che il file a 32 bit tu lo mandi in giro. Cioè, il 32 bit è una cosa intima, tutta tua. Hai sbagliato a registrare. Ok. Lo normalizzi e poi lo mandi via. Possibilmente a 24 bit. Mandare in giro dei file a 32 bit non è esattamente salutare, diciamo. No, perché se lo hai sbagliato, ok, ci può anche stare, la persona lo riceve, lo legge, lo normalizza perché hai mandato un file a 32 bit. Ma normalmente quelli che mandi alle persone che ti chiedono i file sono file normali. A volte sono addirittura mp3 e non è che puoi prendere quel file distorto perché lo hai fatto a 32 bit e lo mandi in giro così in mp3. Non lo recupera più nessuno. Solo il 32 bit è recuperabile all'interno del 32 bit. Quando, prima di mandarlo via, lo normalizzi. Si fa sempre. Comunque, ok, ti ha solamente salvato il culo dalle distorsioni. Tutto lì, nient'altro. Non è che mandi via, ho fatto il 32 bit, lo salvo in mp3, tanto è 32 bit e poi te lo mando. Guarda che quando lo ricevo, se era distorto prima, è distorto dopo. Non fare il rincoglionito. e anche la prossima. Grazie a tutti